quindi io vi ho portato qualcosa di molto particolare perché voi mi date qualcosa di molto particolare un posto del genere e un pubblico del genere quindi secondo me sarà necessario fare qualcosa di abbastanza dinamico io ho pensato che farò quello che ho fatto per tutta la vita ma non solo nella musica proprio nella vita improvvisare non perché non ci sia un'idea ben precisa anzi quella c'è però ci sono delle suggestioni in questo luogo sono talmente forti che si possono cogliere semplicemente senza avere uno schema troppo severo troppo preciso quindi secondo me il bello è creare qui qualcosa che si possa fare solo qui quindi io vi propongo alcuni brani tutti di mia composizione tratti da opera elettrosinfonica vai ovviamente il mio nome e crystal music project che è un oggetto musicale elettrosinfonico con qualche piccolo accenno di quelli che sono i miei suoni elettronici che hanno una certa potenza e questo piccolo giocattolo che è effettivamente un giocattolo che però è venuto con me anche al teatro la fenice però è un giocattolo serio perché questo è intonato come il piano quindi può fare delle parti solistiche io vi proporrò qualcosa di molto vario adesso vi offro un brano che è tratto da una colonna sonora di mia composizione si titola tema di isabella grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti